Buongiorno, buongiorno a tutti voi e vi ringrazio per venire in questo viaggio, vi ringrazio della compagnia, grazie tante e poi ci rivedremo in questo volo così, tanto lungo, credo che è il più lungo che io ho fatto. Sì, è il più lungo. Grazie. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e vi ringrazio per venire in questo viaggio, vi ringrazio della compagnia, grazie tante e poi ci rivedremo in questo volo così, tanto lungo, credo che è il più lungo che io ho fatto. Sì, è il più lungo. Grazie.